apriamo il file 10 buon natale start all'interno di questo file io ho un text plus text plus l'abbiamo già studiato in 3ds max ci danno la possibilità di introdurre dei testi qui vedete che abbiamo una ottimizzazione della nostra mesh che può essere aumentata diminuita oppure essere ad esempio inadattiva oppure step normale se dovete fare della neve che ad esempio cade magari potete lasciare anche senza optimize perché lui poi non incontra i poligoni alcune situazioni adesso vi faccio vedere magari quindi se devo fare della neve direttamente qua sopra vado all'interno del polygons plug-in gli dico ad esempio particolare sclude create snow e dice guarda che lui dice possibile particelle conteggiate 72 minimo raccomandato sarebbe 100 puoi procedere no snow creation aborted quindi non mi ha fatto le particelle vado direttamente qua gli dico no tiriamo via questa opzione vediamo se aumentiamo un po la suddivisione poligonale e degli mettiamo direttamente in extrude setting una suddivisione qua sopra anzi che ne mettiamo due ok in modo da avere più poligoni se io gli dico ad esempio create snow preview adesso lui la neve me la fa ok e me la fa in questo modo che per alcune situazioni magari ad alcuni andrebbe anche diciamo bene poi si vanno a cambiare i vari parametri si va ad esempio cambiare il particle size quello che abbiamo già visto no la tensione relax value il relax interation e quindi noi abbiamo una neve come questa qua quindi questa volendo poi gli mettiamo il solito del politus add surface detail e gli diciamo neve particle occluded particelle occlude e la chiamiamo 11 quindi qua niente come dire di di nuovo noi sappiamo già che si possono fare queste cose cance vado a cancellare tutto ri seleziono il mio oggetto e invece di quello elemento quindi invece di creare le particelle direttamente come abbiamo già visto noi andremo a creare il snow paint snow paint che cos'è è uno strumento che mi dà la possibilità di disegnare sopra la particella in questo modo come sto facendo adesso seleziono un attimo la cancello cancel vado a cambiare diciamo la mia risoluzione la facciamo molto grossa e facciamo 12 diciamo snow paint selezionami prima l'oggetto snow paint ecco questo per far vedere che lui comunque è relazionato con l'interfaccia quindi lui che cosa mi dà mi dà la possibilità di impostare direttamente una risoluzione ok una volta che ho impostato la risoluzione tutti gli elementi la tensione il relax eccetera e così via il particle size mi dice ok adesso tu prendi un pennello che io non sto vedendo però c'è questo pennello con l'oggetto selezionato perché sennò altrimenti tutte le volte si arrabbia e disegna tu dove vuoi ad esempio se io la voglio solo qui sopra la neve o ne voglio un pochino qua qua sotto qui perché è dedicato diciamo in questo modo no su questi elementi e non voglio vedere tutta la neve direttamente sulla sull'oggetto ma magari ne voglio anche un po qua qua dentro la voglio ad esempio qua sulla e in pratica lui vi dà la possibilità qui di andare ad dipingere questa cosa si può fare sull'oggetto quindi questo è un snow paint che noi stiamo facendo direttamente sul mio elemento ok quindi questo è un buon natale snow paint poi esco fuori con il tasto sempre destro del mouse ed ho sempre gli strumenti che già conosciamo se ho fatto qualche cosa che non mi piace perché ad esempio qua non la voglio posso andare sempre con le diciamo la neve che viene denominato in questo caso come custom snow quindi la mia neve custom che io ho fatto posso andare all'interno del sempre del edit particles ed andare a cancellare diciamo una particella ad esempio vado a cancellare questo vedete che si è ritratta ed è andata la seleziono questo alt x ok e quindi questo è un mio diciamo paint poi vedremo che si può continuare sempre a dipingere è ovvio che se io continuo a dipingere vado a creare in questo caso un secondo paint quindi questo lo chiameremo snow paint save as 12 buon natale neve dipinta neve dipinta neve dipinta Grazie a tutti